La società sviluppo turistico Lizzola S.p.A. ha dunque fatto nuovamente centro. La formula della camminata gastronomica, l'intrattenimento musicale in quota e lo spettacolo delle cascate del serio sotto le stelle si è confermata vincente, grazie anche alla collaborazione della Croce Blu di Gromo che ha messo a disposizione i potenti gruppi elettrogeni. È un impegno molto importante, molto pesante. Siamo presenti con circa 20 volontari sia nell'aspetto sanitario che nell'aspetto organizzativo per illuminare le cascate e abbiamo posizionato, come vedete alle mie spalle, tre potenti fari che saranno quelli che illumineranno la cascata, ma non solo perché abbiamo comunque posizionato altri generatori, altre foto elettriche che danno l'illuminazione a tutto il territorio dove tutta questa gente possa muoversi con tranquillità e con sicurezza. Quindi devo dire che il nostro impegno è massiccio ma ci dà grande soddisfazione perché anche il tempo quest'anno ci ha dato proprio la fortuna di avere questo sereno, questo cielo limpido. L'anno scorso devo dire che è andata comunque bene, avevamo le nebbie a livello del primo salto però la cascata abbiamo potuto comunque presentarla illuminata con grande successo. Siamo già pronti per 2010 e probabilmente con una grande sorpresa e la lascio proprio come sorpresa. La forza di questa iniziativa è sicuramente un volere avvicinare la gente non solo per la cascata ma con un percorso. Noi puntiamo molto sul discorso della via dell'acqua e della via del ferro che contraddistingue tutta l'Alta Valle Seriana. L'obiettivo nostro insieme a tutte le amministrazioni locali, la provincia, la regione, il parco dell'Orobia che ci dà una mano è proprio di creare questi circuiti dove uno possa venire nelle nostre zone e possa vedere questi spettacoli.